L'armadio dei pigiami nasce nel 2013 all'ospedale Loretto Mare. Viene creato per un'assistenza di persone povere o comunque sole che in un momento del ricovero dell'ospedale o non hanno assolutamente come mettersi a letto più pigiama, biancheria oppure non hanno a chi ne va a prendere a casa pur magari avendolo. Nel tempo cresce questa sua realtà e iniziamo a distribuire acqua che è un'esigenza, un'acqua minerale che è un'esigenza per i ricoverati che sono soli che non hanno chi la può andare a prendere, distributori, chi la può andare a comprare al bar e successivamente inizia a dare anche un servizio di dimissioni protette per persone che devono tornare a casa oppure devono essere ricoverate in istituti di riabilitazione. Dal momento all'inizio della pandemia del coronavirus abbiamo iniziato anche un servizio di assistenza a famiglie di anziani e disabili, non anziani e disabili, ma persone anziane che hanno figli disabili quindi avevano difficoltà a uscire di casa per paura e allora noi stiamo portando la spesa a queste famiglie, stiamo dando un servizio di assistenza sanitaria, di piccola assistenza infermieristica a queste famiglie. L'ultimo servizio che dà la cappellania all'interno del progetto in armario dei pigiami è partito proprio sabato, siamo riusciti ad attivare alcuni posti letto in due case per infermieri e medici che non vogliono tornare a casa per paura di contaminare l'ipopicale.